Bergamo-Tuscania 3-1, Sudogendon, bella vittoria, importante e con la tua firma. No, 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 firma da squadra, mai in firma dell'unico giocatore. No, ma Tuscania è una squadra fortissima, penso abbiamo visto un partito di alto livello stasera, tutte le due squadre hanno giocato bene bene, noi nel primo set un po' forse con troppa tensione, non so, abbiamo sbagliato un po' troppo in battuta, attacco quasi tutti i fondamentali, dal secondo set siamo iniziati a giocare, sbagliare un po' meno, alla fine abbiamo vinto 3-1, 3 punti importanti in casa contro una squadra così forte. Bravi anche nel punto del quarto set a non mollare e riuscire a portare a casa il quinto. Sì, il quarto set era speciale perché ogni tanto abbiamo preso 2-3 punti di vantaggio e sono ritornato a Tuscania, fino al 24-24 secondo me c'era ancora, ma abbiamo... è giocato il nostro gioco, alla fine era abbastanza per vincere. Adesso Gioia del Colle, da Alex Eratio, resti lupi. Eh sì, è una squadra fortissima, una delle squadre più forti di questo girono, loro giocano in casa, dobbiamo andare in Puglia, è stato un partito difficile anche perché c'è una squadra con tanti esperti là, c'è Trullo, Marchiani, Lupi, spero Lupi può già giocare, dopo questo infortunio con su Gnocchio, spero che posso incontrare in Campo e ci vediamo là, come va!